Questo è Silvio Berlusconi interpretato da Tony Servillo, questo è quello che vediamo nella serie 1994 e qui c'è quello immaginato da Nanni Moretti nel Caimano. Ma questa storia inizia e finisce con due Oscar, entrambi portati a casa da Berlusconi fuori dal set, grazie alla sua casa di produzione Medusa Mediaset Group. Ciao, sono Valerio Novara. Quella tra Berlusconi e il cinema è una storia di grandi successi, ma anche di film e serie tv che ne hanno provato a mettere in mostra il lato umano. È il 1986 quando Rete Italia, holding della divisione spettacolo e cinema controllata da Fininvest, entra a far parte dello storico marchio di distribuzione Medusa. Nell'88 Medusa si allea con il gruppo Cecchigori da cui nasce Pentafilm. La società di distribuzione berlusconiana porterà in sala una cinquantina di film e sfiorerà uno dei colossali impossibili di Francis Ford Coppola, il mai realizzato Gerico. Tra il 1989 e il 1994 Pentafilm si dedica al rilancio delle commedie italiane, ma non rinuncia all'esportazione di lusso come Il tè nel deserto di Bertolucci e all'incredibile Mediterraneo di Gabriele Salvatores, che porta ai due produttori Cecchigori e Berlusconi il premio Oscar come miglior film straniero. Dal 1995 Medusa torna in proprio, allargando gli investimenti tra distribuzione e produzione. Da quel momento saranno solo grandi successi in termini di incassi. Alcuni esempi. Lanciano l'esordio e i titoli successivi di Aldo, Giovanni e Giacomo, da Tre Uomini, Una Gamba e Poi. Soffiano a 0-1 Ficarra e Picone e da il 7 e l'8 in avanti distribuiscono e producono tutti i film del duo comico. Distribuiscono Pinocchio di Benigni e L'ultimo bacio di Muccino. Infine puntano sull'affare del secolo. Che Cozzalone, con cui Medusa, in parte da produttore ma anche da distributore, batte ogni record al botteghino. Infine, nel 2013 l'exploit dell'Oscar per la grande bellezza di Paolo Sorrentino, coprodotto e distribuito dalla società di Berlusconi. Ma se Berlusconi ha fatto tanto per distribuire e produrre il cinema italiano nel mondo, il cinema ha provato a rappresentarlo in varie occasioni. Perché se alcuni film hanno provato a raccontare il Berlusconi politico, altri invece hanno provato a mettere in luce il lato umano dell'ex premier. Un po' come ha fatto Paolo Sorrentino in Loro, film che prova a immaginare cosa rappresentasse Berlusconi nel periodo del suo massimo potere politico. In mezzo, decine di racconti più o meno a fuoco. Nel 2006 Nanni Moretti gli dedica un intero film, Il Caimano, dove lo interpretano Michele Placido, Elio De Capitani e lo stesso Moretti, in un finale che scatena una marea di polemiche. Il bersaglio è sempre lui, Berlusconi, sia in Videocracy di Eric Gandini che in Silvio Forever di Roberto Faenza e in Dracula della Guzzanti. Nel 2018 è Sorrentino a coronare un po' fuori tempo Massimo il Cavaliere nel film Loro, dove Tony Servillo si imparrucca e trucca per sembrare la fotocopia di Silvio. Senza dimenticare che la serie 1994 è interamente dedicata all'ascesa di Berlusconi in politica, qui interpretato da Paolo Piero Bonni. Insomma, non c'è dubbio che questo connubio fra Berlusconi e il cinema riguardi una parte importante della storia italiana. Fatemi sapere cosa ne pensate, se conoscevate tutti i film dedicati a Berlusconi, iscrivetevi al nostro canale YouTube Chac e Azione, seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni parliamo di cinema e serie tv. Al prossimo video!